Grazie di cuore per il prezioso lavoro che state facendo con il vostro dossier. Trent'anni di impegno, bravissimi. Dato che in questo paese girano così tante fake news sui migranti, è fondamentale il lavoro che voi state facendo, dando dati sicuri. E soprattutto io spero che questi dati sicuri che voi state offrendo al popolo italiano aiutino questo popolo a capire che abbiamo bisogno di migranti. Noi non facciamo più fili, c'è bisogno di accogliere queste persone, queste forze nuove che vengono a noi. Quindi grazie e continuate con il vostro lavoro.